buongiorno allora pollicione iscrizione campanile per ricevere le notifiche e se volete condividere i video mi state dando veramente una grossa mano spero che si senta un po meglio sono un po più ubrioso perché lo sapevate un po ero agitato per voi un po per cristiano ma se le cose continuano così domani scioglieranno la prognosi che è la cosa che tutti speriamo vi rispondo ad alcune delle vostre domande e poi devo ricordarvi due cose allora partiamo da chi si è trovato l'rdc decaduto per difformità dal punto di vista dello stato di famiglia o della residenza qui si va a un problema annuso mesi fa è stato creato un database unificato che però sembra che non venga assolutamente utilizzato ogni amministrazione ogni ente fa un po il cacchio che vuole e a volte i dati che ha non sono aggiornati ma non lo dico tanto per jack quando c'era ancora viva mamma ida aveva chiamato un ospedale per una la prenotazione di una visita di controllo a domicilio e all'ospedale hanno detto il suo numero di telefono è questo ora il numero che aveva l'ospedale era un numero vecchio di dieci anni nonostante lui avesse aggiornato i dati personali il suo medico aveva avesse il nuovo numero e il nuovo numero esistesse nella banca dati ma secondo l'ospedale c'era ancora quell'altro numero mai che era stramorto ora non siamo più in quella condizione ma non siamo molto lontani da quella condizione ci sono informazioni che se non andate a farle aggiornare voi non vengono modificate sia da parte degli enti governativi che da parte delle banche della posta così non ha non le aggiornano perché perché se c'è un database centrale ma non ci vanno a guardare è ovvio che le informazioni rimangono bloccate lì con il risultato che magari voi siete perfettamente in regola dal posto punto di vista avete dichiarato le cose corrette nella dichiarazione ISEE ma il loro database non essendo aggiornato riporta altri dati ora invece di controllare nel database centrale se questi dati sono cambiati vi buttano giù la RDC questa qui è l'efficienza amministrativa vale per i certificati di residenza e vale per gli stati di famiglia non vanno a guardare la situazione loro intanto ve lo buttano giù poi tocca a voi provare che è un errore si buttano via mesi in cui voi non avete nessun sostegno per un errore compiuto da loro di cui non sono mai responsabili questa è un'altra di quelle porcate che non vengono corrette nonostante poi passi il collao di turno che si riempie la bocca con app che conterranno tutte le informazioni personali dell'individuo incomincia a sistemare queste discrasie questi casini e poi si ragionerà sull'app no qui bisogna andare avanti facendo la grande dichiarazione stile paesino di pirandello no non mettiamo la luce a gas perché arriverà quella elettrica non mettiamo quella elettrica perché arriverà quella più più potente ancora più sofisticata ancora intanto il paese resta al buio prima sistema i casini poi si ragionerà su una app che contenga tutti i dati no intanto parliamo della app intanto i casini rimangono e ci andate di mezzo sempre voi questa è la verità l'altra cosa che mi è strachiesta da massimo penso che interessa tutti allora tecnicamente i navigator il 30 aprile dovrebbero andare fuori dai coglioni a meno che lo facciano un'altra frignata e orlandono gli accontenti allungando ulteriormente il brodo considerando che dovranno andarsene a casa più di sei mesi fa ma il fatto è che non dipende più del navigator gli incontri mensili dipendono dei centri per l'impiego non dal navigator il navigator finché è lì a lavorare opererà in questo senso faretti colloqui con lui probabilmente perché dato che il personale dei centri per l'impiego è bassissimo come numero di operatori gli orari sono pochi sono ristretti perché non sono aperti 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana e i centri per l'impiego stessi sono pochi adesso orlando ha messo altri 70 milioni nel calderone per potenziare i centri per l'impiego a parte che per potenziare ne servirebbero un bel po di più di soldi servono nuove sedi serve personale quindi potresti assumere non è che butti i soldi lì e poi fateci un po quello che volete perché ragazzi è come buttare la carne agli squali e poi pretendere che ve la restituiscano non masticata di fatto il navigator lavorerà per il centro per l'impiego non ha più la stessa funzione di prima per cui ve l'ho detto prima se ne va fuori dei coglioni meglio è perché attualmente è solo un costo vivo ricordatevi questo costa 1.800 gli impiegati dei centri per l'impiego stanno fra i 1.100 1.200 c'è una bella differenza la gestione poi passerà totalmente ai centri per l'impiego quindi non conta che lui ci sia ancora o no perché attualmente lui è lì semplicemente per fornire supporto ai centri per l'impiego non non ha più la valenza e non deve più neanche svolgere l'attività che non ha mai svolto in due anni e mezzo ma anche nonostante non abbia svolto è stato comunque pagato ci sono dei comuni e delle regioni che stanno facendo uscire bandi di aiuti mi hanno citato il lazio il friuli mi sembra anche l'umbria forse la calabria o la puglia non sono sicuro in ogni caso io visto di quello che mi voglio dire io questo non chiedete a noi se ci sono questi bandi perché si tratterebbe andare a verificare comune per comune regione per regione beh le regioni sono 20 ok ma i comuni sono più di 8.000 controllate sul sito del vostro comune periodicamente se vengono emessi bandi di aiuti che possono andare da contributi per le spese da buoni spesa perché alcuni comuni non hanno comunque esauriti i fondi dei buoni spesa da contributi per le bollette o per l'affitto basta che non rientano nella legge 439 dello 98 perché quelli poi vengono scontati dall'rdc ecco ma dovete controllare controllate periodicamente diciamo una volta alla settimana per vedere la comparsa di questi bandi in questo modo appena compaiono controllati i requisiti e se potete accedere accedete subito così non perdete questa possibilità ma queste sono gestioni locali non hanno niente a che vedere con il governo governo in cui tra l'altro adesso che conte è stato riconfermato come guida dei cinque stelle si è assistito a una cosa vergognosa conte ha chiesto a draghi di avere comunque una certa continuità con la sua gestione cioè dare una parte di eventuali sforamenti di bilancio in destinarli al sociale io quante volte ho criticato conte però vi ho anche detto potete controllare almeno lui qualcosa in termini aiuti ha fatto draghi ha fatto zero ha fatto zero ora conte gli ha detto allora le spese militari ok bisogna aumentare le spese militari va bene ma una parte di soldi diamoli anche agli italiani per aiutarli perché la situazione è drammatica i costi continuano a salire l'inflazione continua a salire il potere d'acquisto continua a calare ecco la reazione di draghi che dimostra che di non conoscere neppure le virgole della parola di democrazia non sa assolutamente cosa significa la parola democrazia è stata andare a lamentarsi mattarella perché non si vuole mantenere il patto di maggioranza draghi ribadisco studia il significato della parola democrazia perché tu non hai idea esattamente di cosa significa sicuramente non hai proprio idea di cosa la democrazia perché se si fa come vuoi tu va benissimo se uno ti fa notare che il paese sta sprofondando e tu vuoi buttare milioni milioni di euro ogni giorno per aumentare le spese militari e dopo che per otto anni se ne sono sbattuti tutti il cazzo a partire da renze gentiloni e le si vuole aumentare nel momento di maggior difficoltà del paese tu prendi e vai no lui ti ha detto semplicemente una cosa se non ti va bene se non capisci cos'è il significato di democrazia la porta è la te ne vai fuori dai coglioni tanto tra qualche mese si vota e non ti consiglio di candidarti perché se va a far comizi per come stai trattando gli italiani con queste ultime ti seppelliscono di porfidi però a conte dico non limitarti a dirglielo se vedi che continua a dire ci sono 10 miliardi 9 miliardi 900 milioni spese militari e aiuti umanitari su cui poi potremmo anche aprire un dibattito sul profughi di serie a e profughi di serie b il resto la mancetta la diamo agli italiani allora se vuoi veramente dimostrare di essere un leader e se vuoi far capire che il movimento 5 stelle che stai guidando tu non è quel branco di scappati di casa messo su da grillo dici sai cosa c'è draghi ciaone fuori dai coglioni e governo crolla lo so che molti si cagheranno in mano perché perdono la pensione ma bisogna che dare un segno al paese un'azione così ti farebbe guadagnare milioni di voti è la realtà invece continuare a stare lì a barcamenarsi a fare come salvini che fuori dice una cosa e poi dentro è più sdraiato di uno zerbino si vedono i risultati dal 36 al 18 c'è un'azione forte perché la gente ha bisogno di un leader in cui si può identificare una guida che dice oh io me ne sbatto il cazzo mangiamo pane e cipolle prima tornerò a mangiare pane e cipolle ma a meno quando finisco in una buca a controllare come crescono le margherite non ci sarà la gente che viene sopra a sputarmi addosso per il resto ragazzi adesso aspettiamo aspettiamo il 15 aspettiamo il 15 aprile che quei quattro disgraziati dell'inps facciano il loro lavoro io sarò qui come tutti gli altri monitoreremo la situazione ma ricordatevelo questa deve essere la goccia che fa traboccare il vaso perché se adesso aspettate questa cosa e poi una volta che ve li danno va bene tutto allora vinceranno sempre loro ciao a tutti